E dobbiamo continuare su questa linea, è fondamentale continuare su questa linea. Dobbiamo sensibilizzare i ragazzi che ancora non ci sono sensibilizzati, rendere coscenti. Entrare nelle scuole, portare degli alpani di sensibilizzazione, progetti, fare qualcosa dal basso. E' questo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo portare avanti questo tipo di progetto. Cercare di avvicinare sempre più giovani, sempre più ragazzi. Quindi vogliamo degli investimenti anche nell'istituzione, investimenti che riattivino la cultura ambientale. Perché manca, manca. Soprattutto qui in Italia, manca la città. Che cosa vogliamo fare ancora? Si penserebbe anche a attuare le sistemi di lassazione ai beni responsabili dei danni ambientali che purtroppo continuano con i loro interessi economici a trascare i soldi su soldi, mettendo da parte poi quelle che sono le esigenze dei benessere comuni.